Prima giornata del torneo School Cup Pellio Vittorini che vede affrontarsi la Scanaia contro il pizzichettone Questi ultimi in competino azzurro Mentre la Scanaia con il competino a scacchi Arbitro Sergio Stanziano del Vomero Diamo il saluto tra le squadre Fair play in campo Adesso tocca la Scanaia Tutto pronto dunque per questo calcio inizio Ci vedremo poi per gli air rights Ciao ragazzi Inizio di primo tempo qui al torneo School Cup Pellio Vittorini Le squadre che si affrontano sono la Scanaia contro il pizzichettone Punteggia ancora fermo sullo 0-0 Pesca Adesso solle tu ti Concomit'o Pesca Monti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.